Ciao a tutti! Oggi facciamo un allenamento gambe, che mi è stato richiesto esplicitamente. È comunque una delle cose che faccio spesso all'interno degli allenamenti, soprattutto all'interno dei circuiti. Ci sono diversi esercizi sempre per gambe e glutei, eccetera. Però andiamo a fare un allenamento nello specifico per, sì, gambe e appunto glutei e anche qualche altro muscolo. Qualche esercizio è un po' più completo e qualche altro è un po' più specifico. Allora, che cosa conta per noi che andiamo a cavallo, principalmente? Chiaramente è meglio sempre un allenamento a 360 gradi, quindi non ha senso allenare un muscolo, un muscolo, un muscolo e andare come a, per esempio, evitare quelli che si fanno già a cavallo, oppure allenare solo quelli che ci servono a cavallo. Non ha senso. Il corpo è un sistema, è un sistema, come si dice, completo e perfetto e va allenato nel suo insieme. Ok? In maniera armoniosa. Ecco. Stessa cosa che vale anche per il cavallo. Quindi, anche qui, allora, sì, andremo a lavorare magari un po' di più quelle parti che a cavallo lavoriamo un po' meno e un po' meno quelle che a cavallo lavoriamo di più, in maniera da compensare. Però, non escludo nulla. Si fa sempre un lavoro completo. Ecco, basta con le chiacchiere, si comincia. Io faccio sempre del cardio in mezzo, prima perché c'è un po' freschetto, adesso quindi per prima cosa mi scaldo un po'. E anche per tenere, appunto, alto il battito cardiaco per bruciare qualche calorie in più. Voi, se avete voglia, lo fate. Se no, fate solo le parti, gli esercizi, insomma, in mezzo. E anche se trovate qualche esercizio particolarmente impegnativo o non vi piace o che ne so, non siete obbligati a farli tutti, insomma. Potete guardare tutto l'allenamento, scegliere quelli che vi piacciono un po' di più o che trovate più sensati per voi e costruirvi, diciamo, il vostro allenamento personalizzato, come volete. Oppure lo fate tutto meglio. E come sempre potete farlo una volta sola o più volte di file, in base al tempo che avete, in base alla preparazione che avete e tutto. Io faccio partire qui l'allenamento per vedere che cosa brucio. E come lo chiamiamo? Un boot camp. Ecco, partiamo. Cambio! C'è una corsa a ginocchia alte. Se avete una corda, va molto bene anche il salto alla corda, come elemento di cardio. Ok, cominciamo col primo esercizio. Andate in questo modo. Su, attenzione. L'importante è che pesiate bene sul tallone, non sulle punte e che state il più dritti possibili col busto. Potete anche scendere un po' meno, però cercate di stare belli dritti e palloni. Le ginocchia guardano lì in fuori e si salta. Ok. Faccio sempre la corsa a ginocchia alte. Veloce. Bella in pienso. Ok. Prendete una sedia o se avete un divano, va bene anche l'angolo del divano. una sedia forse un po' meglio perché è più rigida. Attenzione. L'esercizio è appoggio la gamba e salgo e scendo ma lentamente. sento i muscoli bene. Qui. Devo sentirli, va bene. se lo faccio troppo veloce non serve a nulla. Devo trovare una connessione mente muscolo. Ok. Cardio. Poi faccio l'altra parte. sempre uno sprint in mezzo. Se avete dei vicini sotto questo di solito li rende particolarmente felici. ok? E via. Lento. Vado bene fino a su. Schiaccio il gluteo. In avanti. in avanti con il senso. Ok. Cambio. bene anche le braccia quindi mi appoggio di nuovo mi appoggio con la parte più alta della schiena dietro alle scapole alza la gamba scendo su, attenzione scivola scendo su, è un po' alta questa sedia dovrei andare quasi giù a terra scendo e su scendo su scendo su scendo su stringo bene il gluteo scendo su adesso inizio a bruciare i primi non si sentono neanche quando brucia ne fate ancora un paio è lì che il muscolo sta iniziando a lavorare ok questo è un casino lo lascio così e faccio la mia corsetta a ginocchia è un po' alta abbastanza veloce muovo anche le braccia via 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 bruciare il più possibile nelle pause ok e poi alzo l'altra gamba scendo giù scendo 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 ok ok tolgo questa cosa adesso passa adesso passa di qua giù non sei la porta si è bravo guarda 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 dove è il cubo qui eccolo lì guarda il cubo ok prendo una scopa o quello che volete e la mettete dietro le spalle dopodiché scendete e salite con la gamba restate un secondo su e scendete la gamba non deve essere per forza tutta dritta dietro dovete sentire qui muscolo e gamba sinistra quella appoggiata a terra la schiena resta bella dritta vedete anche da stare bene in equilibrio con questo percorso lavora tutta la gamba fino a giù anche nel polpaccio e nel fibiale se pietra stare in equilibrio devi lavorare tutta quanto la gamba questo esercizio qua è fantastico poi da un lato viene molto meglio dall'altro adesso vedrete molto peggio faccio subito dall'altra parte scendo e salio praticamente faccio da contropeso alla mia gamba alla mia gamba che sale io davanti scendo e la gamba dietro sale una volta ero terribile a destra cioè non riuscivo proprio a stare in equilibrio poi anche queste scarpe che sono fantastiche perché hanno il memory dentro però questa cosa del memory è un po' traballante quindi è ancora più difficile stare fermi in equilibrio si trova lo stesso anche se barcollo a penere duro questo è uno dei tutti migliori e più completi per le gambe c'è anche un cremino qua che va allora poggiate una gamba e poi salti alternati ecco non è sanabile vai si è impossibile proviamo più lenti si così va meglio saltate più in su non è un po' esco non è un po' esco non è un po' esco via sprint una gamba su mamma è detta allora salga su col ginocchio aspetta aspetta come si vede allora salga su col ginocchio aspetta al poi esco col ginocchio calcio o in fuori e torno giù su in fuori calcio e torno davanti e giù il Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E l'altra gamba. Che bravo. 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 a presto a presto scende scende su scende su scende su scende su scende su scende scende su scende le prime volte non importa l'importante è che riusciate bene a capire il meccanismo del movimento quindi ragionate provate provate anche senza sedia quello che è ogni esercizio come riuscite a farlo è meglio poi appena riuscite a farne uno o due allora le volte dopo magari provate a farne un paio in più quindi non partiate con l'idea che dovete farne 8-10 subito con tutti gli altri perché magari siete completamente rimetti quindi basta poco 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 come ho detto potete fare a meno del cardio anche chiaramente chiaramente ci deve sempre essere una che piange in sottofondo e credo che abbia fame ecco a cavallo è la stessa cosa noi facciamo una specie di esercizi a intervalli perché facciamo magari delle pause di passo poi di nuovo degli esercizi impegnativi poi delle pause a cavallo non ci si rende tanto conto della fatica quindi sembra non farla quasi però magari soprattutto che è già allenato che ci va spesso però vi garantisco che il battito sale parecchio lo so dalla misurazione fitbit qua ve la posso anche mandare quelle che faccio a cavallo e sono allucinanti quindi i picchi sono molto alti si diventa parecchio stanchi se montate più cavalli di fila vi accorgete come al terzo quarto non riuscite più a fare le cose come le facevate prima quindi voi vorreste e non capite come mai manca completamente il fiato e l'energia per fare le cose ultimo esercizio appoggiate la gamba sul divano o su un gradino anche più basso se avete qualcosa di più basso è più semplice altrimenti provate così ne bastano pochi qua eh aspetta lo faccio un po' più perpendicolare a voi che così si vede meglio e lo vedo anch'io vediamo perché quando scendete la gamba davanti non dovrebbe essere così ma abbastanza 90 gradi solo che come sempre questo scivola via quindi adesso non lo so cosa riuscirò a fare sentite anche qui il muscolo gluteo sinistro che lavora ok ultima corsetta ancora un po' più veloce proviamo ok e lo stesso di prima con l'altra gamba l'altra gamba oggi c'è una bugia non era l'ultimo più utili perché va a compensare quello che noi facciamo di solito in sella dove usiamo molto la parte interna della gamba quindi gli adduttori ma usiamo poco invece la parte esterna gli adduttori e i glutei che adesso siamo già andati a toccarli ma qui lavoriamo adesso precisamente la parte esterna della gamba quindi l'adduttore attenzione se siete per terra ok se siete un po' più su per esempio su un bordo divano è perfetto fate il doppio della fatica in questo caso non serve neanche avere un peso perché c'è chi si attacca il peso al piede benissimo o chi mette l'elastico e quindi avete ancora più resistenza qui ma vi garantisco che farlo così un po' rialzati e abbassate giù adesso vedete come malissimo dopo 20 adesso ne facciamo un bel po' facciamone 20 per parte ok? partiamo da così gamba sotto è piegata la mano si appoggia per terra l'altra mano li tenete sul bordo per tenervi stabili l'altra gamba è dritta col piede a martello scendete giù del tutto appoggia toccate un attimo col piede e su due tre mantenete lo stesso ritmo quattro cinque si sente già? sei sette otto nove tre dieci dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette brucia di cattiveria adesso ciotto dici dici venti ahah brucia se poi l'ho fatto due tre volte di fila gli ultimi diventano veramente impossibili quasi mi metto giù mi appoggio di qua mi tengo qui deve stare belli fissi e gamba dritta e via uno anche scrocchiata due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci quattro bene per oggi è tutto spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo appuntamento che sarà invece un allenamento un po' più tranquillo di quello di oggi se senza magari gli elementi di caldo e facciamo soprattutto mobilità del bacino della schiena esercizi 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 che fanno bene soprattutto la parte bassa della schiena che è quella che ha più bisogno di essere rinforzata per chi va a cavallo perché anche se noi usiamo leggermente i lombari per mantenere la nostra posizione per dare le mezze fermate quando è trotto seduto in generale quando si avanza eccetera però l'addome la parte anteriore è sempre sempre più sollecitata anche quando non vogliamo. perché comunque per tenerci in posizione l'addome lavorò molto di più rispetto alla parte posteriore quindi andiamo a compensarlo con un elemento apposta per i lombari alla prossima ciao ciao buona serata a tutti ciao